... Viene comunicato in questo momento che il primo gruppo di atleti li hanno fermati, avevano più di quattro minuti. Ecco il giro della campana, la macchina più corsa, inizio corsa. C'è Roberto Marinoni ancora in fuga, un atleta molto forte. Ricordiamo gli amici di Autospazio che seguono la gara. Libera la scuola. Tenda di inquadrare i positivi da molto lontano, guardiamo se sono ancora un trio. Ricordiamo gli amici della Sporta Tecnica che stanno seguendo la gara passo passo. Il gruppo dei positivi si è un po' rafforzato, vedo 8-10 atleti. Ed ecco i primi atleti che si è preso. Ecco il giro della campana. Campanonna! Ecco sono 8-10 atleti. Ringraziamo il giudice della gara alla gara. Roberta Marinoni in seconda posizione. 8-10 atleti. Gli tre positivi sono stati ripresi. Bellissima prima gara. E poi gli immediati inseguitori. Lasciate per favore la strada libera, sta arrivando il gruppo. Straudio. Grazie a tutti.